L'intruso nel monopattino Quando sono io il maggiordomo, sto qui per dichiararti, il diamante tunisino. Aperto! Sono fiero di te, figliolo. Sono fiero di te, figliolo. Sono fiero di te, figliolo. Ah, realmente? Sì. È stato allora che ha deciso che probabilmente avrei trovato un lavoro diverso. Ho pensato che la guardia notturna fosse molto meno pericolosa che guidare un... ...una schifezza. Johnny, no, arrestate questo fantoccio. Signore. Metti le mani dove devo vedere. Se non obbedisci sarò costretto a sparare. Non mi lascia altra scelta, signore.